Buongiorno a tutti, ai nostri microfoni di Ok Italia Parliamo ne abbiamo Ilenia Lucaselli, parlamentare dei Fratelli d'Italia. La Lucaselli si pone una grande domanda, ma quando gli italiani potranno realmente iniziare a beneficiare dei primi contributi messi in campo? E poi contesta l'iter cronologico previsto per il contributo babysitter e ritiene anche che per quanto riguarda la cassa integrazione, in questo momento assolutamente di crisi, di emergenza, si debba prevedere la sospensione anche per le imprese che occupano più di 5 dipendenti dell'obbligatorietà del passaggio preventivo per l'accordo sindacale. Ma non solo questo, ha parlato di tanti altri aspetti tra cui anche quello importantissimo di pensare anche al dopo, ovvero non soltanto pensare ad aiuti per le aziende che decidano di riconvertirsi, ma anche per coloro che con forza decidano di continuare con il proprio ciclo produttivo. Sentiamo dalla voce della Lucaselli il suo contributo. Buon pomeriggio, grazie a Ok Italia Parliamone per l'ospitalità. Io sono Ilenia Lucaselli, parlamentare di Fratelli d'Italia, componente della quinta commissione bilancio alla Camera dei Deputati. La settimana scorsa abbiamo audito in commissione il ministro Gualtieri e al ministro Gualtieri abbiamo chiesto una serie di cose. Innanzitutto vorremmo capire a partire da quando e come gli italiani potranno accedere ai primi finanziamenti che sono stati stanziati. Ricordiamo che il governo ha stanziato una prima tranche di 25 miliardi e se ne aspetta una seconda di altri 25 miliardi. In tutto questo però ci sono dei problemi tecnici davvero molto complessi. Innanzitutto il sistema con il quale privati, famiglie e aziende e quindi lavoratori potranno accedere a questi contributi. Uno su tutto il contributo per le babysitter ad esempio è un contributo che vale in ordine cronologico per cui nella sostanza chi prima arriva meglio alloggia e questo ovviamente è un sistema che a noi non piace. Un'altra questione da affrontare è quella della cassa integrazione in deroga. Come sapete nel decreto è previsto che possano usufruire di questa agevolazione senza passare obbligatoriamente dalla concertazione con i sindacati le aziende che hanno più di cinque dipendenti e anche secondo noi questa è una disposizione che non aiuta le nostre economie, che non aiuta i nostri piccoli imprenditori ma che invece aggrava una situazione burocratica davvero molto complessa. A tutto questo aggiungiamo anche che secondo noi il modo migliore per poter dare questi soldi ai lavoratori italiani è ovviamente farlo direttamente con accredito su conto corrente. Riteniamo che la procedura attraverso l'Inps sia una procedura faraginosa e molto complessa. Ricordiamo che per potervi accedere ci vuole il PIN e molti italiani questo PIN non lo hanno e che comunque ovviamente rallenta moltissimo la possibilità di accedere a questi finanziamenti. Dobbiamo pensare però anche alla ripresa, dobbiamo pensare alla ripartenza e proprio per questo motivo abbiamo proposto con una serie di interrogazioni, lo vedremo quando finalmente avremo la possibilità di discuterne in aula, che non necessariamente le aziende devono riconvertirsi e quindi vorremmo che ci fossero degli aiuti indubbiamente molto sostanziosi per chi invece decide di riconvertire le proprie aziende ma contemporaneamente vorremmo che venissero premiate tutte quelle aziende che nonostante tutto continuano a combattere per la nostra economia e per il futuro di questa di questa nazione. Noi vi terremo aggiornati, la settimana prossima iniziamo la discussione sul decreto fiscale che in questo momento devo dire la verità sembra un po' oltroneo perché in questo momento la fiscalità dovrebbe essere tutta completamente sospesa e speriamo ovviamente che questo momento di assoluta crisi e di assoluta difficoltà venga vissuto come la possibilità di rinnovare finalmente tutte quelle cose che in Italia non vanno a partire dalla burocrazia davvero troppo pesante per le famiglie, per i privati e per i lavoratori e ovviamente vi terremo aggiornati su tutto quello che capiterà, grazie ancora per l'ospitalità e ci rivediamo presto. Ringraziamo Elena Locaselli parlamentare dei Fratelli d'Italia per il suo prezioso intervento, arrivederci ai prossimi contributi.